Inizia il 2013 e Piemonte Volley Online compie 50 numeri. Festeggia con la redazione di PVO, catapultandoti nel nuovo numero del tuo magazine, scoprendo le ultime novità del volley di Serie A, l'approfondimento sui campionati nazionali e regionali e tutte le news. In questo numero, il resoconto dei principali tornei giovanili che hanno animato le feste. È un pensiero a chi, da pochi giorni, ci segue ormai da lassù. Agli atleti nati dall'8 al 14 gennaio, i nostri auguri di buon compleanno. Entra subito nel cinquantesimo numero di PVO. Il volley vive qui, anche quest'anno.